Cura e assistenza, barriere culturali, mobilità e accessibilità, lavoro e istruzione uguali per tutti. Sono i temi che vuole portare all'attenzione il Disability Pride, la manifestazione promossa per sabato 15 aprile per la prima volta a Torino dalla cellula di Torino dell'Associazione Luca Coscioni, in collaborazione con le istituzioni, fra cui la città metropolitana di Torino, e numerose altre realtà, con l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni, privati e cittadinanza sulle tematiche legate alla disabilità. Secondo noi è arrivato il momento di portare in Italia, nel nostro caso a Torino e nel Piemonte, una manifestazione nuova che possa coinvolgere tutti quanti, sia nel mondo della disabilità, sia nel mondo delle persone normodotate, per fare anche sensibilizzazione. Una sensibilizzazione che deve essere sia culturale, perché vogliamo dire basta alla retorica del mondo delle persone con disabilità, viste come degli eroi o come delle persone verso cui provare pietà, ma anche per portare avanti delle istanze, delle richieste di fronte alle istituzioni per poter rendere la vita delle persone disabili migliore. Il mondo della disabilità purtroppo è ancora troppo spesso lasciato in disparte e non viene considerato come composto da persone, perché le persone disabili sono innanzitutto persone che quindi hanno una loro dignità e una loro volontà di raggiungere l'autodeterminazione e l'indipendenza. Molte persone credono che non sia possibile anche solo che una persona con disabilità possa andare a fare la spesa, possa guidare una macchina, possa praticare dello sport e poi invece dall'altro lato ci sono tutte le problematiche pratiche come per esempio banalmente, ma banale non è, le barriere architettoniche. Stavolando in generale anche nel mondo della comunicazione per i diritti delle persone con disabilità visiva, la possibilità di incontrare anche altre persone con altre disabilità con varie caratteristiche, varie discriminazioni, varie battaglie che ci accomunano, secondo me ha portato del valore a tutti quanti per unire le forze, per lottare per una causa comune e scoprire anche il prossimo, perché sicuramente anche all'interno del mondo della disabilità c'è molto da imparare e da scambiare all'interno. Il manifesto collettivo, tutte le associazioni, gli enti, le start-up che hanno contribuito, hanno contribuito con una loro parte, con delle loro idee, quindi a seguito di diverse discussioni, dibattiti abbiamo sviscerato tutti i punti che in comune vogliamo portare avanti, dovendo anche fare una buona selezione, perché appunto i punti tirati fuori erano diversi. Sicuramente ci concentreremo molto sui PEBA, quindi il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, sull'accessibilità anche degli edifici pubblici, degli enti pubblici, a livello sia fisico che digitale, la mobilità per le persone con una disabilità, quindi tutte le opere architettoniche e anche tecnologiche che ci sono da fare sui mezzi di trasporto pubblici, un tavolo di confronto sui taxi, quindi il trasporto tramite i taxi per una persona con una disabilità, questi sono i punti in generale che abbiamo tirato, insomma, stilato tutti insieme. Sicuramente un punto che accomuna tutti i punti prima citati è la discriminazione che molto spesso subiscono le persone con una disabilità, da parte della cittadinanza, da parte delle istituzioni, dei privati, e quindi questi punti un po' racchiudono la lotta all'abilismo, quindi la discriminazione verso le persone con una disabilità.